Qual è il menù della fiera del tartufo? Il menù di oggi è composto tutto con i prodotti che dobbiamo valorizzare, cioè il tartufo scorzone di Nurellao e un po' di bianchetto anche. Il menù è composto da due primi, le troffiette con una salsa con delle noci, burro e tartufo, le basi principali. Il risotto invece è cipolle, pomodori secchi, prezzemolo e tartufo. Poi come secondo c'è il filone di maiale o lonza come si vuole chiamare, col suo sughetto di cottura e aromatizzato al tartufo. E poi per accontentare il palatto fine un po' di pecorino sempre di Nurellao, dei produttori. Perfetto. E buon appetito. Grazie.